Ci sono modi di approcciare LinkedIn che funzioneranno e modi che invece non funzioneranno. Prima di pensare a tecniche e strategie, dobbiamo focalizzarci sul mindset con cui siamo su LinkedIn, sulla mentalità che usiamo per approcciare lo strumento. Quello che sto per raccontarvi sono in particolare 5 mindset che funzionano e che sono applicabili sia che tu voglia utilizzare LinkedIn a livello più individuale, quindi col tuo profilo, magari per fare carriera, cambiare lavoro o per formare meglio come professionista, trovare clienti, qualunque sia il tuo obiettivo, oppure che tu abbia una visione un po' più aziendale, quindi sia più interessato all'utilizzo della pagina aziendale, dell'advertising, al coinvolgimento dei dipendenti dell'azienda. Io sono Alessandro Gini e sono un formatore consulente indipendente, mi occupo di LinkedIn ormai dal 2013, mi sono specializzato su questo strumento e ho fondato Up for Business che oggi è una delle realtà più conosciute in Italia per la formazione e la consulenza appunto per LinkedIn, aiutiamo ogni giorno professionisti e aziende a ottenere il massimo da questo strumento. È per questo che oggi voglio parlarvi di questi 5 mindset e adesso quindi passiamoli in rassegna. Il primo è il mindset del networking, poi quello della generosità, quello della collaborazione il terzo, il mindset della sperimentazione e per finire quello dei dati. Vediamo ciascuno di questi come funziona, cerchiamo di capirli un po' meglio. Partiamo dal mindset del networking e veramente dalle basi, LinkedIn è un social network che collega i professionisti per aumentare la produttività e il successo. Ogni giorno milioni di professionisti nel mondo si trovano su LinkedIn per scrivere, leggere, connettersi, scambiarsi messaggi. La base è veramente il networking, non va mai dimenticato. L'errore numero uno che si può fare se si ignora questo mindset è quello di usare LinkedIn a una sola via, per esempio come un canale in cui mettere informazioni senza curarsi di quello che dicono gli altri, senza stabilire delle relazioni con gli altri, senza quella volontà veramente di andare a realizzare una connessione nuova. O al contrario di essere solo dei passivi lettori, ascoltatori, che però poi non riescono a creare il legame con quelle persone di cui magari stanno leggendo le informazioni. Quindi mindset numero uno molto importante è quello del networking. Il secondo è quello della generosità. Che c'è a zecca, penserete voi alla generosità? Tantissimo, perché il tempo che si dedica LinkedIn è un tempo extra e quindi va fatto anche con quella prima generosità quasi verso se stessi, fatemi dire, ma soprattutto la generosità intesa come dare. Dare agli altri, dare il proprio tempo, che appunto è un tempo extra, è un tempo da dedicare a condividere una buona informazione, a rispondere a un messaggio, a magari leggere, commentare. Bisogna essere sicuramente aperti per questo punto generosi, prima ancora di pensare di ottenere qualche cosa in cambio. Anzi, molto spesso in questi contesti c'è una circolarità, si mette qualcosa di buono nell'ecosistema e loro si riceve poi da qualcun altro. Ma sicuramente se si è generosi in questo contesto e seguendo il primo principio del networking, qualcosa di buono torna sempre. Bisogna credere in questa economia della generosità e del dono. Quindi il secondo mindset è proprio questo, la generosità. Il terzo invece è quello della collaborazione, che è simile ma sposta un po' l'attenzione verso il fare delle cose insieme. Su LinkedIn non dobbiamo essere per forza gli unici bravi a fare tutto noi, ma LinkedIn è un ottimo luogo dove possiamo unire le forze. Per esempio possiamo collaborare con colleghi o altre persone del nostro settore per sostenere vicende i nostri profili, per esempio per scrivere dei contenuti insieme, commentando i propri post o facendo magari delle live. Ci sono tanti strumenti che permettono una vera e propria collaborazione, appunto strettamente legata alla generosità, ma in questo caso si tratta proprio di costruire e fare delle cose insieme e in comune. Se lo guardiamo a livello aziendale sappiamo il tema dell'employee advocacy quanto è importante, quindi il fatto di collaborare tra colleghi e con l'azienda per un risultato comune su LinkedIn e poi di conseguenza sul business in generale è sicuramente un approccio e un mindset che funzionano molto bene. Il quarto mindset è quello invece della sperimentazione. Intendo dire che su LinkedIn è quanto mai importante imparare a giocare, usiamo un termine un po' più leggero, con i vari strumenti, giocare sempre con un approccio professionale ci mancherebbe, ma appunto sperimentare, provare le varie possibilità e strumenti per pubblicare un post, per compilare il profilo, per chi fa advertising. Anche lì ci sono molte cose da sperimentare. Bisogna avere quella curiosità di andare un po' oltre l'ovvio, quello che fanno tutti o quello che si fa sempre, che si è sempre fatto. E quindi stare un po' dietro alle novità, alle occasioni, ai trend. La sperimentazione paga da tanti punti di vista. Per esempio quando si parla di post, la varietà nei post paga a livello di algoritmo. Quando si parla di profilo, avere un profilo sempre fresco dove si sperimenta un approccio nuovo sicuramente attira maggiormente l'attenzione. E potremmo andare avanti anche con tanti altri esempi. Il quinto e ultimo mindset che vediamo in questo video è il mindset dei dati. Cioè avere la mentalità orientata a raccogliere dei dati, non i dati sensibili di altre persone, ma i dati del nostro lavoro. Quindi raccogliere dati, dei risultati, analizzarli e grazie a questo capire se si sta andando nella direzione giusta, cosa funziona di più, cosa funziona di meno. Capire se serve, cosa cambiare e continuare ad applicare senza dimenticarsi la sperimentazione e continuando a raccogliere dati e analizzare. Perché comunque LinkedIn è una piattaforma che usiamo per lavoro, una piattaforma da cui vogliamo risultati concreti. Quindi bisogna saperli misurare e bisogna ricordarsi che bene il networking, mindset 1, bene la generosità, mindset 2, bene la collaborazione, ovvero il terzo mindset, ma alla fine dobbiamo portare appunto dei risultati e dobbiamo far sì che le nostre energie possano sempre essere oggetto di una corretta valutazione. Con questi 5 mindset non si sbaglia, ce ne possono essere altri che funzionano sicuramente, ma queste sono 5 cose da tenere sempre presenti per settare correttamente la propria mentalità quando si lavora su LinkedIn. Fammi sapere cosa ne pensi qui nei commenti, magari dimmi quale di questi mindset fino ad oggi è esatto maggiormente, quale ti ha dato i maggiori risultati o se ce n'è uno a cui non avevi mai pensato. Continuiamo la conversazione nei commenti. Grazie e al prossimo video.